Nel paese ed intorni Castellanetta è conosciuto da tutti come Tonino Pescatore. In realtà il suo nome Antonio Vitale è sessantenne conosciuto invece alle forze dell'ordine come personaggio poco raccomandabile. Condannato è restato più volte per furti, detenzioni di armi, rissa e abusi edilizi, ma soprattutto per essere addetta di molti collaboratori di giustizia molto vicino ai clan mafiosi della zona nel ruolo di fornitore di esplosivo dei clan di Bari, di Taranto e Scaccia di Polidoro. In queste ore la DIA di Lecce a comando del colonnello Francesco Mazzotta e del dottor Leo Ferretti hanno aggredito il suo vasto patrimonio quantificato in 2 milioni di euro, oggetto di un sequestro anticipato emesso dal Tribunale di Taranto. Dal 1986 fino al 2012 le indagini della DIA hanno evidenziato una sproporzione tra il reddito dichiarato, 452 mila euro in tutto, e il valore economico dei beni stimato in oltre 2 milioni di euro, tutti nella disponibilità dell'uomo anche se intestati alla moglie Damiana Cosima Esposito e alla figlia. Un fabbricato di otto vani, due pezzamenti di terreno, un locale commerciale, tutti in località Quaranzana, Castellaneta, ma soprattutto il noto stabilimento Balneare La Marea, Castellaneta Marina, oggetto nel corso degli anni di una serie infinita di vicissitudini giudiziarie. Per realizzarlo Vitale aveva più volte operato degli abusi, occupando arbitrariamente il demanio, sbancando le dune per realizzare dei parcheggi, più volte era stato destinatario di ordinanze di demolizione e sequestri fino alla confisca e al passaggio del suolo al comune di Castellaneta, amministrazione che a sua volta lo dà in gestione allo stesso Vitale. La vicenda non finisce qui, lo stabilimento viene definitivamente sequestrato e messo all'asta, ma caso strano, l'asta va deserta e Vitale lo riacquista ridiventando nel proprietario. Anche questi diversi passaggi sono ora l'attenzione della magistratura tarantina, oltre ai beni sequestrati sono al vaglio, ora almeno, una quindicina di conti correnti bancari.